Una classe dirigenziale che si è allontanata dal popolo, che è secchiusa nelle sue lotte interne, da peccatori si trasformano in corrotti, lo ha detto Papa Francesco durante la messa nella Basilica di San Pietro per i parlamentari italiani. È tanto difficile, ha detto il Papa, che un corrotto riesca a tornare indietro. Il peccatore sì, perché il Signore è misericordioso e ci aspetta tutti, ma il corrotto è fissato nelle sue cose e per questo si giustificano, perché Gesù, con la sua semplicità ma con la sua forza di Dio, dava loro fastidio. Hanno fatto resistenza alla salvezza di amore del Signore, hanno rifiutato l'amore del Signore. Nella dialettica della libertà invece c'è il Signore buono che ci ama, nella logica della necessità non c'è posto per Dio ma per il dovere. Sono diventati così uomini di buone maniere ma di cattive abitudini. Gesù infatti li chiama sepolchi imbiancati. In Quaresima, concluso il Papa nella sua omelia, preghiamo il Signore che ci dia la grazia di andare sempre per la strada della salvezza, di aprirci alla salvezza che soltanto viene da Dio, dalla fede, non da quello che proponevano questi dottori del dovere. Alla messa in Basilica erano presenti oltre 500, tra deputati e senatori italiani ed anche diversi ministri.